Soli single possono insegnare l'amore. Ci sono molte persone single, uomini e donne, che hanno molte più possibilità di insegnare l'amore perché sanno cos'è l'amore, hanno capito cos'è l'amore. Molto di più di persone che sono impegnate in coppia. Ovviamente non è che si può generalizzare, però è probabile che molte persone in coppia oramai vivano la coppia come quando va bene una sorta di fratellanza, quando non va bene una sorta di sopportazione. E questo sicuramente non è amore. Relazioni che si basano sulla paura di restare da soli, sulla paura dell'abbandono. Mentre invece le persone single sono single probabilmente perché non si accontentano e cercano la persona giusta. Metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti.